Mirta Merlino riflette approfonditamente sul percorso intrapreso a Pomeriggio 5 su Canale 5, condividendo le sue considerazioni in un'intervista rilasciata alla Repubblica. Descrive l'esperienza come una vera e propria rivoluzione, sottolineando la necessità di un cambiamento radicale nel suo approccio televisivo per adattarsi al nuovo contesto. Rispetto alla sua predecessora, Barbara D'Urso, Mirta evidenzia la differenza di provenienza, indicando che mentre la D'Urso faceva parte di una consolidata tradizione televisiva familiare, lei proveniva da una rete di nicchia, sentendosi inizialmente un'estranea nel nuovo contesto. Nonostante gli ascolti inferiori rispetto al programma concorrente su Rai 1, la vita indiretta, Mirta interpreta comunque il risultato come un successo personale. Affrontando le voci che parlavano di un presunto fallimento, la conduttrice di 54 anni si difende leggendo definizioni come «flop» e indiscrezioni sull'editore intenzionato a sostituirla, con nomi di possibili conduttrici pronte a prendere il suo posto. In questo contesto, rivela di aver ricevuto fiori da Pier Silvio Berlusconi, suscitando la sua perplessità riguardo all'origine del veleno mediatico. Quando le viene chiesto se ha avuto contatti con Barbara D'Urso, Mirta risponde negativamente, sottolineando che è stato Pier Silvio a chiamarla. Smentisce l'esistenza di problemi personali tra lei e la D'Urso, escludendo che una donna intelligente come Barbara abbia ragioni per avercela con lei. Mirta si autodefinisce, coraggiosa, per aver intrapreso una sfida nuova rispetto al suo passato e suggerisce che Alberto Matano abbia cucito il suo programma su misura. Pur ammettendo di essersi adattata a un mondo diverso dal suo, respinge l'etichetta di essere snob, dichiarando di essere curiosa e di aver mollato le certezze che aveva, mantenendo un equilibrio tra il rigore del giornalismo, ereditato dal padre giornalista Minoli, e un forte elemento emotivo.